Voto pace, terra, dignità, perché sono stanca di andare a votare tappandomi il naso, sono stanca di scegliere il meno peggio. Voglio votare convintamente una formazione politica, il cui programma io condivido pienamente, ed è qualcosa di più che è un programma, e l'invito a cambiare sguardo, a cambiare le regole del gioco, a rovesciare il tavolo. Voglio che non si vendano più armi, che non si finanzi più la morte, che non si prometta più a un popolo come il popolo ucraino una vittoria che non è possibile e che è costata in due anni migliaia di morti. Non voglio più dover sopportare la visione del genocidio in diretta, giorno per giorno, del genocidio del popolo palestinese. Voglio chiamarlo genocidio, non voglio più fare sconti a nessuno. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, bisogna dirlo che siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, e che questa retorica viriloide è distruttiva, è pericolosa. Voglio che cambino le regole, voglio che vinca il materno e perda il patriarcato, questo voglio. E allora vado a scagliare il mio voto, che tutti dicono sto buttando via, per una lista che non è la lista Santoro, è la lista di chi vuole sostituire un ordine mondiale e mentale a un altro.